Ciao a tutti ragazzi, sono Propada09 e bentornati a questo nuovo video, a questo mio canale oggi. Come potete vedere, assisteremo a una reaction di un video di un pro player di Stable Geyser, il nome Exida Games. Non voglio dire altro, iscrivetevi al canale, si manda la campanina per non perdervi mai nessun video. Iniziamo con il video. Allora, mettiamo un po' il volume. Tutto, tutto, tutto. No, 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 no. Sì, vabbè c'è. Sì, ciao. Sì, vabbè. Però su Super Slide non sono male neanche io, però, ste cose. Poi sotto, magari se vedete, 5091 corone. 5091 corone. Stavolta è Space Race, mappa che non so fare. Ecco, questo trick qua. Ah, lui va di qua. Io conoscevo che dovevi andare su quel... Eh, questo qua ci ho provato un milione di volte, però non ce l'ho mai fatta. Eh, vabbè, qua ti dai un boost incredibile, qua vabbè, questo lo so fare anch'io. Non ci vado su quel sasso di solito. Ti dà un boost, probabilmente. Eh, sì, ti dà il boost. Dopo se sbagli strada, comunque c'hai il boost per andare in diagonale. Va bene, dai, vediamo. Prossima corona, chissà, la signora Exida. Blockdash, molto interessante Blockdash. Vediamo che trick interessanti farà qua. Aspettiamo però quando ci sono i salti un pochino più content. Fai di questo, fai di quell'altro. Vediamo cos'è che farà il nostro amichetto. Exida, vediamo. Bene, bene. Vabbè, queste cose non è che siano tanto difficili fino adesso. Cioè, intendo di Blockdash, di Blockdash. Fino adesso non sono stato difficili. Ok, non ci sono ancora quei salti abbastanza interessanti che faccia fatica pure io a farli. Vabbè, qua devi solo spaccare. Qua basta che saldi sui cubetti e fai così. Molto facile. Lì un botto di gente è caduta. Vabbè. Qui ci sono ancora i salti non content. Oh, vogliamo i salti content. Questo già, se hai sfortuna, potrebbe sballottarti chissà dove. C'è solo 26 di ping. Pochissimo ping. E' la seconda reazione sul mio canale probabilmente. E per questo motivo l'ho voluto rifare un'altra reazione perché su questo canale le fate veramente. Eccoli, finalmente i salti con. Ah, lui fa direttamente così. Sì, sì, esatto. Per saltare quella parte lì. Voi qua fa così in modo molto molto facile. Qua pensavo usasse la scivolata. Infatti quell'altro l'ha usata. Qua invece come farà? Ah, giusto, giusto. Col trick così. Però lo sa anche quell'altro tipo. Non mi sembra scarso neanche il suo avversario. Il buono questo lo userà. Ah, no. Neanche la scivolata l'ha usata. Vediamo qua. Lui decide di andare qui. Saltellino così. Molto interessante. Qua fa direttamente così senza andare per sotto. Qua non arriva il saltellino perché è troppo lontano. Saltellino tattico arriva fino a qui. Il suo compagno usa la scivolata, il suo amichetto. Forse l'avversario è meglio. Ok, questo è un po' meno content. Questo è un po' più facile. Ah. Stop motion. Bella la stop motion. Ok, si salva così. Ok, di nuovo questi salti content che non sono per niente facili in realtà. Poi arriverà un momento in cui ci saranno solo i salti in content. di continuo praticamente. Come fanno a venire i salti così facili mentre ci sono i salti stra-content? Di nuovo il salto content, signori. Bene, bene. Molto interessante questa situation. Non avevo mai provato a fare video di reaction varie. Ce n'avevo mai pensato. Ce n'avevo mai pensato. Beh, però... Scusate del momento morto. Probabilmente ci sarà un taglio. Ok, vediamo, signore Exida. Cosa vorresti fare ancora? Va bene. Vai, fai così, fai così. Buono, così. Vai, 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 continua. Continua, bro. Però il suo compagno non vuole morire, eh. Questa partita non finisce più, eh. Mi pare solo voi che sta partita sta durando un botto. Oh, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Signori, signori. Signori, ce l'ha fatta. Finalmente ha vinto questa corona. Uh, la varage. Questa dovrebbe stare veramente poco a farla. Uh, buono il boost che si prende così. Questo trick lo conoscevo, però... Non mi viene tanto bene, ho visto. Non è venuto tanto bene. Buona la scivolatina tattica che lo porta al secondo posto. Anzi, al primo posto, perché il gallo fa una strada un po' lentuccia. Vediamo. Buoni trick per lui. Chissà se andrà lì verso il vulcano, quello altino. Ah no, fa direttamente così con la scivolata. E questo è un bel trick, però... Non so fare, nonostante io abbia la scivolata. Vediamo, vai, vai, vai. No, viene pure sballottato dalla... Dalla palla di fuoco. Però, nonostante questo, ce la fa comunque. Super slide, super slide, signore. Buono, buono. Partenza buonissima per lui. Vai, vai, vai. Dun, 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 dun. Sì, però questi trick quando mai viene... Sì, sì, sono bravo in super slide, però se questi trick qui non riesco a fare. E vabbè, c'è... È troppo forte. È troppo forte sto qua. Puoi scrivetemi nei commenti se vorreste avere nuovi video, se vorreste vedere nuovi video simile a questo. Perché a me piacciono sti video perché sono delle reaction, quindi il video non è mio. Ovviamente. Però facciamo la reaction a un video di un'altra persona. E ilugiamo le sue caratteristiche molto bravi. Magari se potete consigliarmi dei pro player, io ho trovato questo qua che si chiama Exida. Non so, poi c'è un pro player che si chiama Maluco, mi pare, quindi... Ce n'è solo dei pro player in cui potremmo fare le reaction. Oppure, se volete, potremmo fare le reaction anche di altri videogiochi pro player. E... Fatemi sapere anche se li volete io che watch, perché... La serie sarebbe da finire. No, intanto continuiamo qua con Stumble. Eh, Block Dash, questo sarà un botto. Facciamo uno schipettino tattico. Per far arrivare ai salti content. Ok, adesso va bene. No, perché prima... Non è gustoso quando non ci sono i salti content. Siamo già a dieci minuti del video totale, quindi... Ok. Quello schipettino tattico non era perché non volevo avere il video troppo lungo, era perché... Cioè, era anche perché sennò il video sarebbe stato troppo lungo. Vediamo, vediamo con i salti content com'è che andrà. Stavolta c'è il samurai che vorrà, penso, vincere. E non mi sembra neanche troppo male. Cioè, nessuno dei suoi avversari è male. Quindi probabilmente arriverà alle 6.000... Alle 6.000, alle 6.000 corone. Esatto, questo video potrebbe essere delle 6.000 corone. 5.100. È impossibile. Ah sì, no, che 6.000, 5.100. Scusate. Scusate, 5.100, giusto. Le Block Dash sono quelle che durano di più perché durano un botto di minuti. Invece le rame in due minuti sono finite. Queste qua dopo due minuti non è per niente finita perché la gente è forte quindi resiste per molto tempo. E non è una questione... Cioè, è a tempo però ha i limiti proprio. Cioè, quelli che sono veramente forti arrivano a finire il tempo. Credo che se finisce il tempo, quando due sono ancora vivi, dovrebbe esserci un certo quarto round. Che dovrebbe essere sempre il spingo round. Sempre. Ogni quarto round dovrebbe essere sempre il spingo round. E una volta avrei dovuto fare il video, però non l'ho fatto. Mi è successo che era entrato un hacker in una lobby. Ecco, in pratica eravamo arrivati in 32 nel round finale, quello dei quattro. E l'ho ripetuto tipo più di 20 volte. Alla fine era arrivato lo scontro finale, però mi ero rotto di farlo e quindi ho fatto vincere l'altro. Non so neanche se alla fine gli ha dato la corona. Avrebbe dovuto darla a tutte e due, a meno la data. Nonostante io sia arrivato secondo. Cosa ha fatto? Vabbè, ho visto che ha fatto un salto particolare. Ha girato così! Vabbè. Corona 5097 è andata. Vediamo se riuscirà pure a fare la 5098. Direi proprio di sì. Ce la farà sicuramente. Vai! Uuuh, over e under. Bella over e under. Non dovrebbe durare tanto over e under. Perché se sei bravo a over e under dovrebbe andare bene. Non hai partito bene. Devo dire che non hai partito per niente bene. Chissà se riuscirà. Cioè, non è partito per niente bene. Diciamo che non... Ecco. Appunto, ha recuperato tutte le posizioni e adesso arriva prima. Ma è una cosa ovvia. È troppo forte Exida. Può partire pure male, ma arriva prima comunque. Cioè, non so. Questi pro player non so come fanno ad essere così tanto bravi. Magari giocheranno da computer, non lo so. No, ma è impossibile che giochi da computer. Questo gioca da cellulare. Eh no, gioca da cellulare. No. Cioè, ma come fa a giocare da cellulare ad essere così forte? Cioè, io c'ho 150 corone sul cellulare. Sul tablet no, ancora meno. Sul tablet ne ho a malapina 50. Non credo neanche di esserci a 50. No, però veramente. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, qua Laser Tracer è abbastanza content come situazione. Sono solamente in tre rimasti. C'è un Cristiano Ronaldo con la pelle nera e un ninja, come lui. Vediamo, vediamo. Nessuno intendo a morirne perché stanno riuscendo a fare questi salti bene. Io a questo punto sono già impanicato e muoio subito. Oppure potrebbe essere che vinco perché anche le altre persone vengono impanicate. In questo momento in cui ce ne sono tante. Ma non è ancora il momento peggiore. Ecco, adesso arriva il momento peggiore. Adesso arriva un casotto. È veramente difficilissimo farlo. Vediamo. Oh, ma nessuno muore, eh. Ecco, qua è morto Cristiano Ronaldo. Quindi è rimasto solo ninja contro ninja. Chi vincerà? Credo che la risposta sia scontata. Però magari questo... Questo Krasdard è forte. L'ho visto anche in altri finali Krasdard. Non è che magari fa le partite insieme a Krasdard. Non lo so. O forse è tipo... Tipo non lo so, Krasdard. Vediamo, vediamo. Se sopravviverà. Eh, vabbè, cos'è? È l'inferno. Sì, ciao, ciao, ciao. Sarei già morto 80 volte qua in questo laser qui. Dai. Sarei morto 80 volte qui. Eh, ciao, ciao. Sì, ce l'ha fatta. Sì, bravissimo. Molto bravo. Vediamo l'ultima delle ultime. Vediamo... Ok, non può essere Block Dash. È una mappa veloce. È infatti Super Slide la più veloce di tutte. Per la 5100 ci sta un botto, secondo me, Super Slide. Beh, vediamo se riuscirà a fare la 5100 su Super Slide. Partito al secondo posto, chissà se recupererà. Ha già recuperato, è già primo. Però è veramente di poco. Ciao, il samurai ha le calcagno. Però il ninja, sappiamo tutti che è meglio del samurai. Ecco, infatti il samurai è caduto e quindi il ninja potrebbe vincere. Beh, diciamo che vincerà sicuramente. Ormai lo sappiamo. Eccolo lì. Supera pure la ventola. Ed è andata questa partita. Beh, dite che questo ragazzo, Ettore, è troppo, troppo forte. Ma ormai sapevo che questi video sono solo per far capire che sono veramente scarso. 5101 hanno fatto ancora un'altra. Ma ragazzi, è che ci vediamo un altro giorno con un nuovo video. Ciao.